Individuata la rottura su un tratto di rete che nei giorni scorsi ha creato l'abbassamento della pressione idrica in alcune zone di San Giovanni Tiatino, uomini e mezzi dell'ACA sono attualmente al lavoro per riparare il guasto. Dopo ore di ricerca, andate avanti anche nella giornata di ieri, la rottura è stata infine scoperta lungo la strada che costeggia il tracciato ferroviario nella zona del cemitero di San Buceto, nell'area conosciuta come la zona dei laghi. È qui che si sta intervenendo per riparare la condottura a servizio della rete principale, come chiarisce il sindaco di San Giovanni Tiatino, Luciano Marinucci. Si tratta di una rete di supporto alla rete principale, quindi isolato a questa parte della rete di approvvigionamento delle acque potabili, il sistema funziona lo stesso e quindi la dispersione adesso a breve, attraverso una serie di carotaggi, verranno individuate e quindi messe in sicurezza. Sicuramente si torna alla gestione ordinaria con tutta una serie di problematiche che invece purtroppo sull'acqua potabile esistono e vengono fuori dal fatto che l'acqua, essendo una fonte rinnovabile, in assenza di nevicati invernali o copiosepe oggi, anche sia nel periodo primaverile autunnale, fanno venire meno gli approvvigionamenti presso le sorgenti che poi vanno in distribuzione con tutta la rete degli acquedotti che portano acqua nelle nostre cisterne, che sono due, qui nel Comune di San Giovanni Tiatino, riforniscono la rete idrica di San Giovanni Tiatino. Il Comune di San Giovanni Tiatino è soltanto uno dei tanti comuni che anche in quest'estate è stato interessato dai problemi legati all'emergenza idrica, tanto che ieri addirittura l'ACA ha distribuito acqua potabile alle famiglie che erano rimaste insomma senza acqua e che avevano avuto dei disagi. L'abbiamo dato anche l'azienda della zona industriale, chiaramente chi l'ha chiesto. Aggiustato questo tratto di conduttura, comunque il calendario di chiusura dell'ACA andrà avanti insomma perché si fa un discorso più generale legato proprio anche ai cambiamenti climatici. Purtroppo l'acqua è diventata un problema generale, molto dovrà cambiare anche nelle abitudini, quindi una parsimonia nella gestione dell'acqua potabile e i condomini devono ricominciare a pensare alle autoclave, quindi fino a che non si risolverà questa esigenza, questa problematica sicuramente si andrà avanti con un'emergenza generale. L'ACA deve fare investimenti importanti perché è vero che alcune reti, quella del Comune di San Giovanni di Tiatino che aveva una gestione in proprio sicuramente è una delle migliori nell'ambito della dispersione, però il problema di fondo è che noi l'acqua sorgente non ce l'abbiamo sul territorio, le prendiamo da sorgente dove probabilmente nel percorso si disperdono. Quindi l'ACA, la Regione Abruzzo deve fare investimenti importanti, il PNRR sarà uno di questi e sono convinto che parteciperanno a questo bando per poter portare risorse principalmente per il miglioramento della disposizione dell'acqua potabile.